In questo caso il miglior giocatore del torneo coincide con il cappello e quindi invito il signor Fernandez del Plus World War II alla proposta area del torneo. Grazie. 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 La squadra del Lecco Calcio. Sorridiamo, sorridiamo. Grazie. 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 Ciao Diego. Grande. Ciao ragazzi. Ottimo. Dovevano durare un po' meno. 70 minuti dovevano durare. Grazie. Lo staff. Gli amici della vetrata. Gli amici della vetrata. Dove sono? Ecco. Una coppa non c'è per voi. Non c'è una coppa. Grazie. 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 Arrivederci. Arrivederci. Ciao, ciao. Buon ritorno. Grazie. Grazie. Ciao. Anche noi la facciamo. Lo staff. Grazie. Dov'è la camera? Sempre per dire di forza. Per colpa vostra. E' calma. Bravi. Bravi, bravi, bravi. Grazie. 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 Va bene. Ha v Rocky. 7 giorni di poco siamo stati noi è stato un piacere un saluto da io ti amo sono stati in zinghari seguite 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 i nostri amici seguite vieni qua vieni qua coach vieni qua vieni qua seguite seguite il nostro amico coach perché è il numero 1 7 giorni di poco no devo tagliarla ciao grazie allora